Le dimissioni di Bruno Alicata sono un boccone amaro per Forza Italia. Le dimissioni di Bruno Alicata avvenute nei giorni scorsi dal responsabile provinciale del partito sono state per molti un boccone amaro, difficile ancora oggi da digerire. La sua storia umana, professionale e politica, la sua esperienza rappresentano infatti per tutti noi e per il partito un patrimonio irrinunciabile che sarebbe impensabile disperdere. La sua decisione, la lealtà e la correttezza, l'equilibrio e la capacità di sintesi unitamente a una squisita educazione hanno sempre rappresentato un suo tratto distintivo apprezzato anche dagli avversari politici. E pertanto con quest'animo che pur comprendendo e rispettando la scelta personale chiediamo a colui che riteniamo ancora oggi il nostro commissario provinciale di riconsiderare la decisione assunta ritenendo la sua direzione ancora utile e necessaria per la crescita del partito, non solo per le qualità politiche dimostrate anche ai più alti livelli istituzionali ma anche o soprattutto per quelle umane che da sempre caratterizzano il suo agire, non solo politico. La nota è firmata dal sindaco di Noto Corrado Bonfanti, quello di Meniglie Giuseppe Carta, il dirigente provinciale Giuseppe Assenza, il responsabile zona sud Fabio Cancemi, il commissario cittadino di Lentini Stefano Battiato, il commissario cittadino di Augusta Paolo Amato, il commissario cittadino di Siracusa Gianmarco Vaccarisi, gli ex consiglieri comunali di Siracusa Gianni Boscarino, Alessandro Di Mauro, Ferdinando Messina e il consigliere comunali di Augusta Corrado Amato. Grazie a tutti.